Caro Traghetti, secondo round, si è tenuto a Roma il 31 gennaio al secondo atteso incontro tra il Ministero dei Trasporti e le associazioni di categoria per trovare una soluzione al rincaro delle tariffe da parte degli armatori. Un aumento dei prezzi conseguente all'entrata in vigore degli obblighi stabiliti dall'Unione Europea riguardanti l'uso del carburante marittimo green a basso contenuto izolfo, più caro rispetto a quelli usati fino ad oggi. Il Vice Ministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri, che ha apprezzato l'impegno da parte della Giunta regionale di prevedere nella Finanziaria 2020 stanziamenti integrativi a quelli statali, rassicura sull'impegno da parte del Ministero a risolvere una criticità che coinvolge non soltanto gli autotrasportatori, ma che colpisce indirettamente e pesantemente anche l'economia sarda. Per evitare di incorrere in infrazioni comunitarie e per aiuti di Stato, si cercherà dunque di intervenire sulla Convenzione per la Continuità Territoriale in scadenza al prossimo luglio 2020. Qualora il MIT non riuscisse a completare le procedure per emanare il nuovo bando entro la scadenza di luglio, spiega il Vice Ministro, si andrà alla proroga dell'attuale regime. Con una nota, intanto, i vertici di CNA Fita Sardegna ricordano il carattere di estrema urgenza dell'avvertenza Carotraghetti, richiedendo degli interventi nel breve periodo e da attuare nell'immediato. Per Acqua Esti, CNA Fita richiede incentivi diretti agli autotrasportatori con pagamenti celeri, il riconoscimento del gap dell'insularità per superare le criticità infrastrutturali ed economiche della Sardegna, l'esigenza di trasparenza sull'incidenza reale che gli obblighi ambientali hanno sull'assetto dei costi delle compagnie, per scongiurare eventuali profitti ingiustificati a danno degli autotrasportatori, tariffi omogenei per tutti i vettori, indipendentemente dalla frequenza dei passaggi e dalla grandezza delle flotte, e l'istituzione di due linee, una su Olbia e una su Cagliari, dedicate esclusivamente al trasporto merci.